Ci siamo, alla chiusura della sessione estiva del calcio mercato manca poco, se un anno fa l'avellino di questi tempi si apprestava ad assestare il colpo finale a Ardemagni, in queste ore la società Biancoverde si concentrerà solo a piazzare qualche esubero come Dattilio ed Evangelista e null'altro. Il grosso del mercato Biancoverde è stato fatto nelle scorse settimane, con gli ultimi arrivi di Morosini e Marchizza, che sono andati ad impreziosire una rosa che può dirsi completa, a differenza proprio della scorsa stagione, quando si provò nelle ultime ore a mettere delle toppe. Novellino, probabilmente, avrebbe voluto un altro esterno a centro campo, ma è stato accontentato alla società con la permanenza di Camarà, inizialmente dato in partenza, e soprattutto Paghera, che era il maggior indiziato a lasciare Avellino, ma è stato blindato dallo stesso allenatore. La società Biancoverde volentieri avrebbe fatto a meno del pesante ingaggio del mediano ex lanciano, ma l'intrigo Omeonga ha frenato ogni tipo di trattativa. Il mancato ritorno del belga ha imposto alla società di fare altre valutazioni, con la volontà di intervenire nuovamente sul mercato, solo nella sessione invernale, visto che in lista è libero ancora un posto over. Ma gennaio è lontano, di tempo per riflettere ce ne sarà. Ora bisogna concentrarsi solo sul campionato e godersi da spettatori queste ultime ore frenetiche di calciomercato.